Torna forte, fortissimo il rischio di un attentato in Francia. Quattro persone sono state fermate mercoledì nella diciottesima circoscrizione di Parigi. Si tratta di tre uomini ed una donna sospettati di voler compiere un attentato inaminente. Per il presidente francese Hollande la minaccia resta elevatissima. Intanto in Belgio due persone sono state fermate e rilasciate nel pomeriggio, ma continua la fuga dei due terroristi scappati dopo l'operazione antiterrorismo di Martellì. Ricordiamo che tra l'altro una bandiera dell'ISIS è stata ritrovata in appartamenti. I due arrestati intanto, conosciuti dalle forze di polizia belga, sono stati rilasciati poche ore dopo.